canna da light lombrico amo spiombato oggi la challenge è prendere qualcosa con il lombrico vediamo se ci riusciamo ho dei lombrichi che innescherò proprio su un ametto spiombato comunque guardate il mio mulinello con questo bellissimo knob azzurro il tpe knob della gomexus e infatti questo video è sponsorizzato da gomexus un brand ormai famoso per i suoi knob che consentono di personalizzare i nostri mulinelli come meglio vogliamo io ad esempio li utilizzo ormai da più di un anno e oltre ad essere belli sono anche funzionali in particolare il tpe knob che è fatto da un materiale che garantisce un'estrema piacevolezza durante l'uso e soprattutto non è scivoloso rispetto ai knob tradizionali sto pensando a quelli in alluminio ad esempio non è scivoloso tra l'altro nemmeno se bagnato anzi in quel caso ha un grip addirittura migliore cambiare knob ai propri mulinelli non è un'operazione difficile basta seguire qualche tutorial online il basso al mulinello che si possiede e scegliere il tpe knob che si preferisce esso è disponibile in diverse dimensioni e colori sia per mulinelli da spinning che da casting insomma con il tpe knob della gomexus potete disporre di un accessorio bello difficile da sporcare ma facile da pulire il cui colore non sbiadisce col tempo e soprattutto piacevole al tatto vi lascio il link aliexpress in descrizione ricordandovi che dal 21 giugno inizieranno i saldi estivi ma ora torniamo a noi ho avvistato un po' di carpe ultimamente ed è per questo motivo che ho portato con me il lombrico lì ne vedo uno ad esempio subito subito ah non ci arrivo spiombato proprio non ci arrivo mamma mia già emozione subito c'è una carpe che grufola proprio lì vediamo se lo prende no non l'ha visto allora in pratica ho un ametto dell'otto e eccola filo 0,18 come inizio non c'è male ora bisogna farla mangiare il che non è assolutamente un'impresa semplice ho scelto lo spiombato perché ha un affondamento più naturale magari ce ne posso mettere anche un altro dai mangialo oh mamma mia non so se l'avete vista è saltata tutta fuori dall'acqua eccolo mangiata qualcosa ha mangiato ragazzi qualcosa ha mangiato vediamo cosa è se è una carpa eccolo no sono pescetti sono pescetti eccolo carpa no si cavetano gigante cavetano gigante mamma mia bello bello porca che bacca che ha mangiato sull'ombrico spiombato guardate che bestia di cavetano quanto sei bello sembrava una carpa in effetti la panza è da carpa vedete ha l'ametto conficcato sul labbro ora lo slamiamo no non fare non fare così che è tutta melma e lo rilasciamo grazie super cavetano super 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 in quest'acqua qui in questa piccola pozza senza corrente guardate che schifo tutto melmoso io vedevo carpe però ma è un ottimo inizio un ottimo inizio sarà il knob della gomexus che porta fortuna comunque ora rinnesco questo ho mangiato su due lombrichi sto facendo degli inneschi molto semplici non ho l'ago per cui ne prendo uno e lo innesco dal clitello che è una sorta di parte che hanno prima della testa lo appunto sul clitello così a modo di muoversi quindi grande movimento poi se ne voglio mettere un altro lo appunto allo stesso modo ma incrociato ecco lo mamma mia che mangiata strappacanna anche col lombrico micro cavetanello ma non so se sono cicciotti comunque non so perché ma mi sta piacendo un sacco anche questa pesca con il lombrico spiombato perché è proprio leggera non si sente niente fino a quando non arriva la mangiata di lui per adesso vediamo se ci sarà anche qualche carpa so che molti di voi diranno Andrea ma tu che peschi sempre con le scartificiali perché ti sei ridotto a pescare con l'ombrico perché mi piace sperimentare non piace cambiare eccolo mangiata facciamolo mangiare porca c'è pesce pesciolino cosa sarà un cavetano selettivo il lombrico piccolino abbiamo preso tre tre classi di taglia del cavetano la mamma il figlio e il neonato pescione che è che è mamma mia cos'è un altro cavetano mamma mia questo tira poca miseria è più grosso dell'altro vieni 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 qua ragazzi questo è più grosso molto più grosso dell'altro ragazzi non avrò fatto la carpa ma guardate che pesce è più largo che lungo è una carpetta praticamente è un cavetano che voleva essere una carpa non pensavo veramente di divertirmi così tanto con il lombrico mamma mia ora rilasciamo questa bestia un carpa vedano e non è ancora finita c'è ancora spazio per qualche altro lancio avevo ridotto il diametro del terminale allo 0,14 e poi l'ho preso nello stesso punto praticamente in cui ho preso quell'altro che poi l'ultimo mi ha dato tanta emozione proprio perché tirava tirava parecchio fino all'ultimo ho pensato fosse una carpa anche perché era panzuto concludiamo a spinning con gli ultimi due lanci vabbè più di due con un piccolo ondulante giusto per non perdere la mano eccolo ma che mangiate sempre con sta frizione lenta io pure questo mi sa che è bello eh sì non come gli altri però un bel pesce mangiate assurde mangiate assurde qua il miglior modo di concludere la challenge con l'ombrico spiombato che non prenderli con un ondulante non esiste un modo migliore ciccione tutti ciccione oggi pesce alla fine alla fine proprio piccolo cavetano area ciab area eccolo stavolta con l'ondulante bianco per concludere ultimo pesce che salutiamo il bello dei cavetani è che li potete prendere con qualsiasi tecnica quando sono attivi hanno voglia di mangiare oggi volevo provare una cosa diversa in realtà non puntavo ai cavetani puntavo a una carpa ma le carpe sono difficili sia con esche artificiali ma anche con esche naturali per cui mi sono rifugiato nei cavetani anzi fortuna loro e vi devo dire che mi è andata anche molto bene perché due cavetani di taglia anzi grossi non capitano sempre anzi però questa challenge volevo farla e niente spero che il video vi sia piaciuto e noi come sempre ci rivediamo alla prossima ciao 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 ciao